E' un'altra parte. Ma non esiste, dai. Cos'hai? Cos'hai? Perché ho offerto di raccena. Ma quanto hai speso? Gli ultimi fuochi! Da dove li fai di cipolla, va bene? Ti stringerò. Giuro che ti farò male. Nella notte io mi accenderò. La tua stella sarò. Mi amirai, come non hai amato mai, come un'onda e io ti travolgerò, poi ti sfuggirò. Non, che fai. Ma shaman. Non, 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 non. Ma dimmi due!